Good morning a tutti voi e buona giornata. Oggi celebriamo la festa dei santi arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele. E per me, per noi che siamo di Cuneo, oggi è festa patronale dei tre, l'uno, San Michele. Per noi San Michele è appunto la festa della città di Cuneo. Allora siamo al capitolo, interrompiamo il percorso, siamo al capitolo 1 di Giovanni, al versetto 47. Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui, ecco davvero un'israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò, come mi conosci? Rispose, prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di Fichi. Gli replicò Natanaele, Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. E sembra una replica un po' eccessiva, no? Ma noi dobbiamo pensare che in realtà l'Evangelo ha un percorso talvolta che è più lungo, ecco, di quello che la narrazione ci presenta, ecco. Non c'è qualcosa di magico, non c'è una predizione, ecco. C'è sempre l'incontro, in questo caso, tra Gesù e Natanaele. E la festa di oggi, la festa degli Arcangeli, Gabriele, Raffaele, Michele, per noi appunto Michele, gli angeli letteralmente vuol dire messaggero, non messaggeri, ecco. Allora, mi viene in mente, oggi festeggiamo tutti i messaggeri, tutti gli annunciatori, tutte le persone che ci hanno portato a Cristo, tutte le persone che in qualche modo nella vita, nelle circostanze della vita, da quando siamo bambini, da quando siamo cresciuti, ci hanno detto qualcosa di Dio. E questo poi Gesù lo riconosce. Cioè, se noi navighiamo, diciamo così, ecco, nella rotta della parola di Dio, Gesù non può che riconoscerci. Ti ho visto, eh, ti ho visto, mentre eri sotto il fico, mentre meditavi, cioè il fico è il, ho già detto, ecco, è l'immagine appunto della meditazione della parola di Dio. Ti ho visto. Gesù ci vede, ci guarda, ma non come l'esperienza che un tempo si faceva, no? Mi dicono, io non lo so, ecco, che anche nei bagni dei seminari o di altre cose ci fosse la scritta Dio ti vede, ma questo veniva scritto per incutere un po' di timore, invece ti ho visto, Dio ti vede, ma non per giudicarti, per deglassarti, per farti sentire un verme, ma Dio ti vede significa Dio ti ama. e gli angeli sono un segno di questo amore. E questo non ha nulla a che fare appunto con degli esseri alati, ecco, ma ha a che fare con il fatto che nella nostra vita, anche oggi, incontreremo dei messaggeri, qualcuno che ci dice l'Evangelo, cioè una buona notizia per noi. Le cose belle della giornata di ieri, ebbene, cito solamente una, ecco, ieri un grande amico, Don Paolino festeggiava il suo compleanno e quindi ci siamo trovati insieme, abbiamo vissuto un momento di condivisione, di festa, di chiacchiere, di tante parole, ecco, insieme ad alcuni amici. E' una bella cosa questa. Ale, buona giornata a tutti voi.